E' morto? E' morto, siamo primi! Siamo primi! Non devo morire, non devo morire, non devo morire Ti dicevo, devi cercare di prenderli magari alle spalle e distruggerli Anche se con questo lo vedo difficile, dato che Come fai a prenderli alle spalle? Oddio! No, 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 ok, però... E' quello, è quello sotto! Ucciso, ucciso! Lo vedi, lo vedi? Oddio, 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 ce l'ha fatto! Lo mazzo, lo mazzo! No, ti prego, ti prego non ha vita! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e che se oggi giocheremo a Diep.io E in questo episodio cercheremo di raggiungere la prima posizione in classifica Dato che la scorsa volta abbiamo fallito Sì, ma tu hai la voce brutta Lo so, lo so, scusate ragazzi, ho avuto la febbre a 39 fino a ieri Ho un mal di gola tremendo Ma prova a fare un video Anche se probabilmente morirò entro la fine Io ve lo dico, ma ci sto provando Che brava ragazza Vedi, come tu provi a fare la prima posizione in classifica su Diep Io sto provando a fare il video Quindi è una doppia sfida Esatto Oh, capisco Esatto, non so come finiranno entrambe le cose Ma ci si prova Sai perché ci chiamiamo Everest? Perché? Perché raggiungeremo la vetta! Era terribile questa cosa Era davvero, davvero terribile Ma iniziamo subito Ok Allora, noi siamo preparatissimi Perché abbiamo già in mente una bellissima build Che credo, anzi spero, ci permetterà di battere tutti i banzi In realtà io l'avevo scritta nel telefono Ma non ti ho dato il telefono Quindi se riesci a trovare il mio telefono Distrai il pubblico nel mentre trovalo Va bene Non me la ricordo Se vado a memoria rischiamo un pochettino Sei una brutta persona Cioè ci metteremo una vita a raggiungerlo Lo sai Sei consapevole Lo so perché ora stavo pensando che il primo fosse ancora più alto Ah, ok Sei consapevole che la tua voce potrebbe morire prima di arrivarci, sì? Va bene, nel caso sto muta e continui tu Ah, bello Capito? E io assisto e basta È una buonissima idea Ma questo è il mio sogno di vita Guarda, ti lancio una ciabatta in faccia Un video dove finalmente ho la gloria e sono solo Ah, sei pronto? Lascia Ma che sei pazza Ah, non ci provere mai più Guarda che se mi colpisci è il tuo rischio e il pericolo perché poi muoio Dovresti solo ringraziare che ti sto facendo compagnia in questo video Ah Perché voglio proprio vedere cosa faresti senza di me Un video bellissimo No, un video bruttissimo Hashtag Steph video in solo Ti mancherei talmente tanto che piangeresti per tutto il video Comunque, cosa andiamo a scegliere qua? Facciamole così Esagerata Dobbiamo scegliere Flankguard Ok? Flankguard Con una pronuncia un po' francese oggi Ma non sei francese, sei un talebano Ma che talebano? Ma sei scema? La pronuncia è solo da talebano I talebani non sono così carini, mi dispiace Infatti sono brutti quanto te Ma guarda Fai attenzione Perché ti stai mettendo in mezzo a tutte queste persone cattive Perché dobbiamo fare ex Che sparano Sì, ma non cercare il rissa adesso E io non la sto cercando Sono loro che si avvicinano Vuoi cercare il rissa? Ma no, no Non cercare il rissa Guarda come iniziamo a sparare veloci Allora, nel frattempo il primo è diventato enorme Oddio Io te lo dico È arrivato a centomila Ma dobbiamo fare il video dove arriviamo primi e il primo fa il pazzo Cioè a quanto vuole arrivare? A 10 milioni? Non è semplice Non è semplice Ormai Dobbiamo ammazzarlo Ecco c'è il secondo potenziamento Guardate come siamo diventati È una finestra Si inizia a fare sul serio La gente da rein puoi scapperà Guarda come spari È troppo troppo carino Adesso tutti ci dovranno temere Perché Devono capire che noi siamo i più forti Comunque nel mentre Siamo già in classifica E siamo ottavi Perché forse Non ti è già accorto Non ci avevo fatto caso Non ci avevo fatto caso Lo so Bello Dai, non è male Essere già in classifica Non è male Dobbiamo puntare Sì, ma non ci basta A fare un po' di caso Guarda, guarda questo Guarda questo Guarda questo Perfetto Vorrei capire chi è che sta sparando Secondo te il primo in classifica ha messo proprio al centro lì che cerca di uccidere tutti Pensi che sia così? Sì, credo che sia di quelli che ha quella cosa che spara verso tutti i lati Perché arrivano davvero colpi da tutte le parti Anche secondo me si è fatta quella cosa che diventa praticamente una coroncina di cannoni E spara da qualsiasi lato Purtroppo per noi perché Guarda, 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 io non so più cosa fare Ecco, l'hai visto? Ecco, vedi? Vedi, avevo ragione Abbiamo avuto ragione, abbiamo avuto ragione Ti dicevo, devi cercare di prenderli magari alle spalle e distruggerli Anche se con questo la vedo difficile Come fai a prenderli alle spalle? Oddio! Non era il primo ma l'abbiamo distrutto L'hai ucciso tu? Sì Sei stato tu? Sì, l'ho polverizzato Oh mio Dio! Ok È stato bellissimo Ok, si inizia a fare su serie e siamo quarti Abbiamo un upgrade, hai notato? Sì, ma non lo facciamo? Per notare che siamo già quarti Te l'ho detto io prima, non mi hai ascoltato? Esattamente Complimenti, bravo Ho troppe medicine in corpo Ok, non puoi pretendere che io riesca Oggi cerchi solo scuse Che riesca a parlare e che riesca anche ad ascoltarti Guarda comunque cosa succede quando incontri una persona Lo vedi? Guarda questo, guarda questo, guarda questo Questo dove è in classifica? È sotto di noi, è sotto di noi Ok, ok, ok Non morire Stai attento, stai attento Lo so, ma con questa build si rischia Cioè qua non puoi giocare difensivo Ah, bisogna giocare aggressivi Dici Sì, purtroppo A me non piace A me piace Perché tanto giochi tu? Esatto Mi piace, mi piace vedere le rinze se io non sono in me Aia Mi stanno No, ti devi spostare Sì Sì Stai morendo Mayday Stai morendo Houston Togliti Houston Togliti da lì Questi cavolo di triangolini chi li ha inventati? Guarda io odio il creatore del gioco Ti ha fatto gioco No, c'è un tipo che è uguale a noi No, no Questa cosa non va bene Pensi che faremo una brutta fine, vero? Lo leggo nei tuoi pensieri Sì, sì, sì In questo momento sono tutto tranne che positivo No, dobbiamo cercare di... Siamo secondi per di più Cavolo No, non possiamo morire allora Concentrati Guarda questo Concentrati Ucciso, 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 ucciso Ok, allora stai calmo Perché comunque un minimo di rigenerazione della vita ce l'abbiamo Quindi stai un po' calmo Aspetti di recuperare vita E poi andiamo alla ricerca del primo Se vedi mi sono defilato un po' Sono andato un po' verso l'alto Comunque il primo è arrivato a 200.000 Lo so Io non ho parole No, cercavo di... Arrivato a 200.000 Cercavo di far finta di nulla Ma sì, ho già visto che è a 200.000 Sì, sai cosa dobbiamo fare? Aspettare che si stanchi e si disconnetta Ma rimaniamo qui tutto il giorno Quindi noi continuiamo Sì, 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 eccolo E lui? No, 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 no È quello, è quello sotto Ucciso, ucciso Lo vedi? Lo vedi? Oddio, 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 ce l'ha fatto Lo ammazzo, lo ammazzo No, ti prego Sta scappando Ti prego non ha vita Ti prego lo dobbiamo uccidere No, lo devo uccidere Ti prego Dov'è, dove è andato? Oh mio Dio, mi sto emozionando Mi sto emozionando Guarda quanto siamo lenti Non fa Sicuramente lo acchiapperemo Fra due secoli Cavolo Era bassissimo Perché era appena uscito Dalla lotta Con un altro Lotta che abbiamo rubato noi Perché stava ammazzando Tipo il terzo in classifica L'abbiamo ammazzato noi Il terzo Ma deve già capire Come vanno le cose Noi siamo secondi Lui non può tenere La prima posizione per sempre Non può tenerla per sempre Comunque ha capito Chi è il suo rivale L'abbiamo fatto paura Secondo me È venuto un microinfarto Questa gamba è levata Adesso torna e ci distrugge Eccolo Eccolo No No, 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 no Oh, gli ho spaccato la faccia Di nuovo Guarda, l'ho rimandato a metà vita Ho troppa paura Ho troppa paura Guarda come l'ho ricopito È bassissimo Cavolo No, non possiamo morire adesso Ti devi concentrare Guarda Io te lo dico È morto È morto Siamo primi Siamo primi Non devo morire Non devo morire Non devo morire No, no, concentrati Dobbiamo resistere Dobbiamo restare in vista Ce l'abbiamo fatto Di arrivare primi Ce l'abbiamo fatto Oddio Sai cosa è successo però? Che cosa? Che mi sa che qualcuno Ci ha rubato la kill Perché ci avrebbe dato Un po' di più Non me ne frega nulla L'importante è che l'Everest Ha raggiunto la sua vetta Hai visto? Ce l'abbiamo fatto Te l'ho detto Perché questa build Ammazza chiunque Non c'è una build Che la può contrastare Siamo lenti La gente può scappare Recuperiamo vita Alla velocità di un bradipo Ma se abbiamo qualcuno davanti Muore per forza Allora, Jacob Se è secondo Quindi devi essere eliminato Mi dispiace per te Però la selezione naturale Funziona in questo modo Sto cercando Di recuperare vita E di farlo scendere un po' Ok L'ho colpito un po' L'ho colpito L'ho colpito Guarda si sta spaventando Sta prendendo colpi Guarda Guarda Dai Jacob Ok no Poi prende un sacco di colpi Anche dai triangolini Perché non sta pensando A distruggerli Pensando a sparare Sola Come è possibile Chi ci ha ucciso Un tipo ci ha preso Con un colpo Ci ha devastato la faccia Proprio potentemente Non so come Beh ragazzi Il video è finito così Se è piaciuto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao